Ehi la ciurma! Siamo di nuovo qui su Spore Pronti con le nostre nuove abilità No questo è cattivo Quello è cattivo non posso No 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 senti noi andiamo a cercare guai che non ho granché di Di abilità è meglio non morirci subito eh insomma Ah però no sono loro che abitano qua sono i miei vicini prossimi No ci sono dei Tars Siamo molto più bravi di te a cantare Spezzente Dovrò prendere un alleato più furbo Perfetto mi è andato cavalletta che mi aumenta la velocità ma niente di che Andiamo a vedere che cosa aspetta mozzo dietro questa collina Questi sono cattivi? No No eh Questo volevo prenderlo Prendi Foglionte Ah fascino Canta E noi cantiamo anche E lo stupiamo Così facciamo alleanza E ci ho dato anche tre dita No ho sbagliato Ma quelli sono tutti ancora molto 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 legati alla fase cellula Perché hanno ancora un sacco di cose Della fase cellula E questo tizio guardate Cioè tra l'altro ha fatto pure un Un tizio onnivoro Mettendogli sopra la mascella carnivora sotto quella erbivora Fa uccia fungo Ci sono altre cose luccicose qua? No Allora andiamo oltre E vediamo cosa possiamo trovare di altro Questi sono sempre cellulosi Infatti non so neanche cantare Guarda come cantiamo meglio di voi No Sono più bravi di No Nel fascino No ho sbagliato Scusa Sì ballo anch'io Guarda come ballo anch'io bene Come te Yes Di nuovo il cervello più potente Di sempre Noi dobbiamo finire l'alleanza con questi tizi Ne manca ancora uno Allora noi andiamo con Questo che ancora non abbiamo stupito No ho sbagliato Rifai Posa è 4 Non 3 Sì Ha il pelo Piove? Non mi era mai capitato che piovesse Sapete? Strano Strana cosa Strane cose succedono qua su Tarantella Siamo in diretta da Tarantella Dove il nostro Eroico Motsu Sta cercando di Ma questi li becco tutte le volte Ma sapete? Tutte le partite che ho fatto Ho sempre trovato questi Maudegal Ballano meglio di me Ballano meglio di me Credo Proccanto meglio io Ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo No Ah questo è un po' più facile Vediamo se Però se mi ballano Io non so ballare come voi Ballate meglio di me Lo so No senti Vai a ballare con quello Balla con altra gente Ma No è un balle Non dobbiamo ballare Fate i cantati Tipo Non sono capace a ballare come voi Fatemi cantare Buonanotte al secchio Prendo la roba E buonanotte al secchio Non so ballare come voi Ma se mi fate cantare Sono più bravo io Anche posare Anche fascino Andiamo da Golujash Che carini che sono questi Mi piacciono questi Si ballano ancora meglio degli altri No Sentite Proprio non posso leggere Una cosa del genere Cosa è questo? No è troppo forte per me Troppo bravo Chi c'è qua dritto? Chi c'è qua dritto? Chi c'è? Chi c'è qua dritto? Dai Sono più bravi di me Anche in questo Oh per fortuna Mi ha chiesto di cantare Canta Canta Ballare So ballare anch'io Come te Posare su posare meglio Posare su posare meglio Ma vaffan brodo Ok adesso vediamo se ne troviamo qualcun altro Che si fa Ecco lui Dai che si è fatto anche qua Anche io so ballare come te So posare meglio Si ce la facciamo Si ce la facciamo 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 Si alleati grandissimo E quindi chiediamo a uno di questi di venire con noi Tipo Tu vuoi venire con noi? Ma non fare così che poi ci batti Perfetto Perfetto La mappa La mappa non è grandiosissima qua Perché va a blocchi diciamo Non va Che si muove quando ti muovi tu Cioè tu arrivi fino a un certo punto Poi dopo quella si riaggiorna Oh questi non li conosco No erano miei alleati Che stupito che sono Si 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 che li conosco Ma quanto cavolo era lontano Ero andato lontanissimo Ma lontanissimissimo Proprio 3 3 Mila chilometri quadrati No lo so che i chilometri quadrati Non sono una misura della distanza Non venite a me a parlare di quelle cose Che le so meglio di Ehm Delle persone Normali Ma è qua la casa Perché non c'è nessuno Ah Vedete dove sono andati Porca miseria Sono tutti in giro Sono solo io a casa Ero io che dovevo Superare la specie No è ancora una femmina Ma io volevo anche il maschio ogni tanto Un bel maschettino Ma ci sono tutte femminucce Sono tutte femminucce Eh Uh 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 Ah ma no Quelli sono più scarsi Di quella che ho Oh 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 Ora Allora vediamo Delle mani più Posa 3 Queste che mani sono No quali sono Le altre Queste sono Un ballo livello 3 E io ho un ballo livello 2 E poi ho del fascino più potenza Ho un fascino 2 Allora vediamo Togliamo queste E mettiamo Questo Poi vediamo se riusciamo a mettere Un Ballo 3 O un O un Pose 3 Mettiamo un ballo 3 Dai Non credo di potermi permettere anche un pose 3 Infatti No aspetta Togliendo queste Magari si 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 Può Fare Quindi abbiamo un pose 3 Si 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 I like Death Death Quest Io direi che per oggi è tutto Noi ci vediamo nel prossimo episodio Vi invito a lasciare un mi piace E A iscrivervi al canale Se per caso non l'aveste già fatto Trovate il link della mia pagina Facebook In descrizione Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti